Ok, sì, quindi sì, lo riaccetterai di nuovo? Sei sicuro? Non è che poi fai lo scherzone come al solito, che dici una cosa e poi ne fai un'altra? No, ok. Allora ti aspetto a che ora? Alle 8? Sì, giusto? 8 ore italiana. Va bene, tienimi da parte un cyber track, dai, già che ci siamo. Ok, grande, ci vediamo, eh? Bella. Buonasera ragazzi, scusate, ero un attimo al telefono con Elon Musk che mi stava un po' spiegando cosa ha intenzione di fare, non lo sa ancora, pensate, ha detto che improvviserà e la cosa un po' mi spaventa. Scherzi a parte, buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi dipendiamo un po' da lui, a me spiace perché ci affiniamo sempre così, siamo qui che diciamo i fondamentali, il bitcoin, il valore intrinseco, una cosa e l'altra. E poi siamo qui che sudiamo perché aspettiamo l'intervento di Elon Musk stasera all'evento in cui si parla su bitcoin. Vabbè, ci piace anche questo, magari sì, magari no, ma per il momento il mercato lo sta scontando bene. Infatti sono veramente curioso, non sto scherzando, di vedere cosa succederà una volta che si pronuncerà. Ovvero, che cosa ha intenzione di dire? Cosa diranno gli altri partecipanti al dibattito? Perché ci sono persone di notevole spessore, c'è un tono molto supportivo nei confronti di bitcoin. Perché abbiamo Jack Dorsey, che ha fondato, oltre che Twitter, Square, che è un'azienda di pagamenti fortemente incentrata sulle criptovalute e su bitcoin. Poi abbiamo Cathy Wood di Archinvest, anche lei sostenitrice pubblicamente nota di bitcoin. E pertanto mi aspetto che ci sia un'aria, come dire, dei topic molto costruttivi, incentrati proprio sui falsi miti, ho letto, che alleggiano intorno a bitcoin. Uno dei quali mi aspetto che sia proprio il tema dell'inquinamento e dell'impatto ambientale. E i possibili miglioramenti che si possono attuare proprio per rendere bitcoin uno strumento più utile sia alle aziende, sia alle istituzioni, sia per l'investitore comune. Quindi veramente sono molto curioso. Elon Musk, non c'entra un tubo lì dentro, diciamocelo, però è stato chiamato un po' per fare, secondo me, per dare un po' di impatto mediatico al tutto. E quindi spero che non faccia un'uscita delle sue e che lasci a casa Dogecoin. Se volete vedere l'evento, dunque, come vi dicevo, è a disposizione un link direttamente da debiworld.org. Debiworld è il nome dell'evento stesso. Ci sono più tranche di questo evento. Vedete, la prima tranche, Demystifying Bitcoin, è già iniziata, tra l'altro. Infatti, come vedete, un'ora e 47 di video c'è già, ma non c'è Elon Musk. Elon Musk è nella seconda parte, che inizia invece alle 11 PDT, 11 AM PDT. Io ho cercato l'orario, vedete, italiano equivalente alle 11 AM e è alle 20, quindi finita questa live avrete tutto il tempo di sentire le perle di Elon Musk. Se qualcuno nel frattempo sta guardando la prima parte, fatemi sapere anche cosa viene detto, perché sarebbe carino anche commentarlo in diretta. Io mi sono preparato la nostra chiacchierata, quindi me lo guarderò, credo, indifferita. Anche perché poi dopo la live devo uscire, quindi per evitare di spezzettarlo, sicuramente vedrò l'effetto che il discorso di Musk e gli altri ha avuto sul mercato, ma di fatto poi me lo godo indifferita con tutta la calma. Poi, questa non è l'unica notizia, perché ho raccolto un po' di cose interessanti anche oggi, e dopo quello chiaramente passo la parola a voi, dopo la carrellata di notizie, e infine graficozzi e via che si va. C'è questo sentore un po' di ritorno, di carica, vi vedo più bullish. Io parlo spesso con tanti di voi e mi faccio un po' un'idea del sentiment che avete, e se fino a pochi giorni fa era clamorosamente bearish, in questi giorni, non lo so, mi sembra di vedere tutti un po' più carichi. Prima notizia, comunque, il suo po' cos'è questo video che è partito, non mi interessa, volevo solo condividervi che Bitstamp ha aggiunto il supporto per EURT, che è la versione Tether di Euro. Non sapevo neanche che esistesse, a dir la verità, perché è una stablecoin pressoché in disuso, non credo che sia da nessuna parte, non ci sono pool, nemmeno in DeFi, non c'è nulla di tutto ciò, ma l'accettazione da parte di Bitstamp, che è un exchange molto radicato da un punto di vista delle regolamentazioni, è un messaggio abbastanza forte. Io, ragazzi, ci spero tantissimo nel diventare mainstream di una stablecoin legata all'euro. È una cosa di cui io veramente avrei una fame pazzesca, perché? Perché semplicemente io, quando sono in stablecoin con la liquidità, con il mio comparto liquidità, per magari andarlo a investire in DeFi, in Cefai, in tutte quelle piattaforme di rendita, caspita, sono forzatamente esposto al dollaro americano, perché abbiamo USDC, USDT, BUSD, tutte stablecoin legate al dollaro. Sì, è vero, qualcosa per l'euro c'è, c'è Stasis EUR, c'è quello di Synthetix, quindi EURS e S-EUR, che c'è il loro pool su Curve, però ci sono volumi di scambio molto bassi, proprio perché sugli exchange non ci sono, sulla maggioranza delle piattaforme DeFi non ci sono, e quindi purtroppo è molto limitante come cosa, ci dà una rendita abbastanza bassa. L'unica piattaforma Cefai degna di nome che supporta gli euro è invece Nexo, e anche lì purtroppo è un limite, perché io sono più per la diversificazione. Quindi mi auguro che questa stablecoin abbia successo. Poi, questa è una cosa molto interessante, si parlava molto in questo periodo dello sblocco dei GBTC, perché comunque si sono chiuse posizioni, c'è minor domanda per le share di Grayscale, del fondo di Grayscale su Bitcoin. Come funziona questo fondo? In sostanza, quando c'è domanda per le sue share, il fondo acquista in qualche modo Bitcoin, o degli investitori gli danno Bitcoin, e lui in cambio li blocca lì ed eroga queste shares, che di fatto sono una fetta della liquidità detenuta da Grayscale stessi. E di conseguenza ciò che accade è che abbiamo una sorta di mercato secondario, possiamo chiamarlo in questo modo, che, come dire, va a vendere una fetta appunto di un volt di Bitcoin detenuto da Grayscale stesso. Nel momento in cui non c'è più domanda per queste azioni, Grayscale farà l'operazione opposta, scusate, quindi vendere di fatto i Bitcoin che detiene, perché deve chiudere le posizioni sulle share e vende i Bitcoin. In questo periodo doveva esserci uno sblocco massiccio di Bitcoin detenuti da Grayscale. Non so se lo sapevate, ma qui su Bybt.com, che non è Bybit l'exchange, probabilmente hanno scuotato il dominio per beccare anche quelli che sbagliano, no, scherzi a parte. È un sito bellissimo questo, perché ci sono un sacco di dati gratuiti, sull'open interest, su varie cose, e tra i vari dati, vedete, c'è anche il calendario di sblocco dei GBTC, cioè dei Bitcoin detenuti da Grayscale. E oggi è il 21 di luglio, quindi come potete vedere il picco di sblocco, che era il 17 di luglio e il 19, rispettivamente 16.000 Bitcoin e 8.700 Bitcoin, è passato. E adesso davanti a noi abbiamo soltanto queste candeline, che comunque sono molto ridotte rispetto a quello che abbiamo visto i giorni scorsi. Il prossimo giorno un po' più corposo sarà da 3.400 Bitcoin, che non è una cifra esagerata, cioè averceli mi piacerebbe, però, per Grayscale non è una somma esagerata, ed è l'11 di agosto. Quindi anche questo ce lo lasciamo alle spalle. possiamo dire che è stato abbastanza un non-evento. Non ci sono stati impatti particolari sul mercato. Poi, altra cosa, eccolo qua il nostro SEM nazionale, anzi nazionale neanche un po', però mondiale, perché se vi ricordate, io da quant'è che vi rompo le scatole su questo pazzo furioso, su tutto ciò che tocca, e su FTX, dal, non so cos'era, due anni fa che avevo fatto il video su FTT, quando avevo iniziato il mio pack su FTT, insomma. Ecco, il suo exchange ha raccolto quello che è il seed funding, quindi la raccolta fondi, prima di un'eventuale uscita pubblica, di un'eventuale IPO, a listing pubblico, di 900 milioni, la più grande per il settore delle cripto finora. È stato valutato 18 miliardi, l'exchange FTX, e pensate che solo un anno fa ne valeva 1,2. E pensate anche questo, quanti anni fa è nato FTX? Due anni e mezzo? Cioè, questo ci dovrebbe far ragionare di quanto si muovono in fretta le cose nel settore delle cripto. Cioè, poi ci stupiamo, no, che le regolamentazioni, la burocrazia non riesce a tenere il passo. Cioè, qui esplode tutto nel giro di pochi anni, ma non parliamo di bolle speculative, parliamo di aziende di business che sono cresciute, che hanno raccolto utenti, milioni di utenti. Binance è l'altro colosso, che in questo periodo, sempre, ripeto, per ovvi motivi, sta un attimino litigando, tra virgolette, perché poi non è successo niente di male, con i regolatori di molti paesi, ma perché anche Binance è nato da quattro anni, ha fatto il... ha celebrato il suo quarto anniversario recentemente, e in quattro anni, cioè, che cos'è diventato? Cioè, parliamone, se fossero quotati in borsa, queste aziende, io credo che si mangerebbero veramente, il 90% delle aziende, anche big, del settore finanziario, e sono aziende nate da pochi anni. Questo per dire che, appunto, è un po' un... un qualcosa su cui riflettere, la velocità, alla quale si muovono le cose nel settore cripto, e questo pazzo furioso qua, che è una delle persone più ricche al mondo, pensate un attimo voi. Comunque, poi, che altro abbiamo? Ecco, l'Europa, a proposito di regolamentazioni. L'Europa ha proposto, una bozza di regolamentazione, per il settore delle cripto, che potete trovare, vi giro anche il link, se vi interessa, in formato integrale, di 52 paginozze, una letturina, insomma, da fare sotto l'ombrellone, oppure prima di dormire, vedete un po' voi? Io non l'ho neanche letta, vi dico la verità, ho letto i riassunti, perché, fortunatamente, si trovano i riassunti sul web, di questa proposta, di fatto vuole applicare, la cosiddetta travel rule, alle transazioni cripto, alle detenzioni di cripto. La travel rule, è applicata, di solito, al settore bancario, ha a che fare ovviamente con l'antiriciclaggio, con la verifica di identità, col KYC, e quant'altro. In sostanza, non è possibile detenere un conto bancario anonimo, ok? La stessa cosa vorrebbero trasporla lato cripto. Questo con una prima applicazione, proposta appunto da questa bozza, che prevede la necessità per gli exchange, quindi le aziende che fanno compravendita di cripto, fanno da ponte cripto fiat, nel momento in cui qualcuno preleva delle cripto da lì, sopra una certa soglia, ad un wallet esterno, deve comunque andare a fare KYC, e collegare in qualche modo quel wallet, anche al suo KYC. È una pratica che, secondo me, nel tempo verrà sempre più sottolineata. Non è il primo a proporla, l'Europa, l'avevo già sentita in passato, è una bozza, ripeto, quindi con le tempistiche che ci sono, ci vorranno anni, affinché diventi una legge concretamente applicata. C'è tutto l'iter, deve andare al Parlamento europeo, e così via, quindi ripeto, adesso è lì, è una bozza, una proposta, ma da qui a quando verrà applicata, ragazzi, mi viene da ridere, perché nel frattempo sarà ancora cambiato tutto, e magari non lo so che cosa sarà successo. A me, non lo so, lascia sempre perplesso questa corsa da parte della burocrazia e delle regolamentazioni, cioè che cercano di correre a piedi dietro a un Frecciarossa 1000 in corsa, che è il mondo delle cripto. Se da un lato è giusto che ci siano regolamentazioni, che comunque non si può lasciare tutto così al far west, per ovvi motivi, dall'altro bisogna cercare di fare le cose con un certo senso. Cosa ne pensate voi di questo dibattito regolamentazioni cripto? Vorrei sentire la vostra opinione, quindi mi raccomando condividetela sia qua in chat su Twitch, sia nei commenti per voi posteri su YouTube, e lasciatemi anche un like che mi gasate ai massimi. Questo era quanto, no, ce n'è ancora una, stavo scherzando, perché da bravo pazzo inflippato con la DeFi, io seguo un po' tutti i principali protocolli, SushiSwap è uno di quelli che preferisco da tempo, lo sapete, anche se ultimamente non è che si farmi alla grande su SushiSwap, però è in arrivo un upgrade importante che si chiama Trident. Trident, tre punte, il tridente, in sostanza introdurranno tre tipologie nuove di pool. La prima, i pool ibridi, cosa vuol dire? Vuol dire asset simili, cioè asset uguali, esempio RAN BTC, WBTC e così via, nel medesimo pool alla curve, niente in permanent loss, minore impatto sul prezzo e così via, come anche Saber, per parlare di pool su Solana per par condicio, e basta, quindi niente, questo sarà il primo upgrade. Il secondo, i weighted pools, quindi balancer per capirci, la possibilità di supportare fino a otto token, quindi penso proprio che sarà un porting di balancer, anche lui è fatto allo stesso modo, con pesi scelti arbitrariamente dal creatore del pool, quindi non per forza 50-50, 33-33-34, oppure comunque pesi appunto equipotenti, ma anche differenti. Numero tre, i liquidity pool concentrati, Uniswap versione 3, per chi non la conoscesse, ha un aggiornamento importante rispetto alla versione 2, ovvero la liquidità, che io, liquidity provider, vado a dare, non viene distribuita su tutta la curva del prezzo, da zero a più infinito, per capirci, ma viene concentrata in una specifica area. Questo lo rende molto più efficiente, e ottimizzato anche per il liquidity provider. Vi faccio un esempio, Bitcoin adesso è a 32.000 dollari circa, io posso decidere di andare a dare liquidità tra i 30 e i 35, quindi tutti gli swap fatti all'interno di questa fascia di prezzo, mi producono fee che intasco io, e chi altro ha messo liquidità in questo range. Quando esce da questo range, smetto di ricevere commissioni, le riceverà chi ha messo liquidità in quel range. Questo evolve un po' le strategie da liquidity provider, si può fare delle coperture, si può dire, beh io metto liquidità dove non ce l'ha messa nessuno, così se ci finiamo, beh con un sacco di fee, insomma cose del genere, di cui non ho voglia di parlare adesso. Però vi volevo solo dire, che sarà un aggiornamento anche del nostro Sushi Swap. Bene, ora ci teniamo il nostro grafico qua sotto, mi raccomando se qualcuno di voi sta seguendo l'evento, fateci qualche highlight ogni tanto, che è interessante, e io passo la parola a voi. Allora, allora, partiamo dall'alto, partiamo dall'alto, eccoci qua, vedo candele verdi ovunque ragazzi, però non fatemi questo errore di diventarmi bullish subito, in maniera esagerata, esagerata, perché se è vero che a tutti noi piace di più essere bullish che bearish, io sono il primo ovviamente, che perché voglio aprire il dannatissimo short di copertura, e in generale ci basta poco, no, per diventarlo, attenzione perché al fine di far propagare un movimento rialzista, anche su un time frame rilevante, ci vuole un po' di più. Però nel frattempo, vedete, ho di nuovo il mio orologio, quindi questo è un segno che il bear market si è un po' indebolito, no, scherzi a parte. Allora, 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 Luca, te lo chiedo da tre live, togliami sta curiosità, hai venduto gli NFT dei conigli in macchina della mystery box? Li hai venduti sempre su Binance o altrove? Sì, ammetto, cioè, mi ero promesso di non dirlo, ma ammetto che se li ho venduti, ha tipo due volte, tre volte il prezzo, una roba del genere, ma una miseria, una miseria, è stato un gioco, un esperimento, non credo che sinceramente vadano a valere chissà quanto. Avevo il dubbio, ho detto, ma li tengo per sei mesi qualcosa in più, poi ho detto, ma c'è, sti conigli qua, cosa devono andare a valere? Alla fine li ho venduti. Secondo te Bitcoin a quanto arriverà? Guarda, non te lo so veramente dire, io so solo che sul lungo termine sono bullish. Ieri ho fatto un post su Instagram, se ti interessa, dove ho chiesto proprio questo, e ho ricevuto le risposte più disparate in assoluto. Volevo aprire una posizione sui futures, ma non posso sentire quello che dice Elon, quindi non so se Bitcoin scende sale o lateralizza. Guarda, sinceramente, aprire una posizione ora è esattamente equivalente a lanciare, pam, una moneta, e se esce a testa guadagni, se esce a croce perdi, quindi non ci sta, non ci sta. Io un po' di Doge ieri nel dubbio li ho presi, secondo me stai già godendo allora, poi non vorrei che tutti adesso stanno cercando di fare front running a questa cosa, quindi dire, bene, c'è Elon Musk, quindi compro Doge, Baby Doge, Shiba Doge, Elon, Elon Mars, e quindi poi damperanno tutti nel momento in cui Elon parlerà e magari non se li fila di striscio, non lo so, bisogna cercare di pensare anche a quello. Ho notato che ogni volta che programmi un entry sullo sweep il mercato si riprende, fallo più spesso, esatto, niente sweep, stavolta assolutamente zero, ma in realtà poi nel mio trade intraday lo avevo piazzato talmente in basso che per arrivare lì doveva veramente fare un dampone di quelli ciclotici. Magari poi ci spendiamo due parole anche su quel setup lì. Ciao Luke, col video su Terra mi hai folgorato, volevo chiederti se ci sono altri modi per far rendere gli IUST staked su Anchor, oltre che usarli per il fan di Mirror. Grazie mille. Per il momento no, per il momento no, perché il mondo Terra è ancora circoscritto a queste applicazioni. Gli IUST io adesso li sto usando anche su, come si chiama, Pilon, e per farmare i Mine, che è la sua coin, però è una cosa diversa, è un po' più lungimirante, barra scommessa come approccio, e non sono gli IUST, ma sono gli IUST, quindi non c'hai la parte di rendita su Anchor. Al momento no, quello è quello che ci puoi fare, quindi IUST collaterale su Mirror per lo short farming. Alle 20 sono a Piacenza, esatto, altrove no, è il fuso orario di Piacenza che è tutto particolare. Piuttosto che aprire un long ha il primo segno di rallentamento su time frame basso, apertura short con stop loss molto stretto. Teoricamente è vero, la struttura è ancora di lower high, lower low, e quindi aprire un long è assolutamente prematuro. Adesso più tardi discutiamo sul grafico, ma la struttura non mente, quindi non è il caso di anticipare il mercato. Ciao Luca, è un po' di tempo che ti scrivo su Twitch durante le dirette, ma porca paletta, salti sempre le mie domandozze. Eccomi qua. Volevo chiederti un parere, sto utilizzando da poco Flots, e vorrei che ci dessi uno sguardo. È una sorta di pancake swap, ma di uso molto più semplice. è stata creata dal creatore di N26. Allora, come si chiama? Flots, vediamo, vediamo che cos'è Flots. Io lo cerco, è così. Flots.link? No, non credo. È questo? Non ho idea di che cosa sia questa cosa. Adesso andiamo, vediamo che cosa succede qui. No, non credo che sia qualcosa. Qualcosa mi dice che non è questo. E guarda, dimmi di più, facciamo così, cerca di dirmi qualcosa in più, così posso capire. Allora, aspettate, Ciao Luke, sto farmando short una stock su Mirror, dopo un buy dello stesso importo, dunque Delta Neutral. Ci sta. Ho notato che se fornisci collaterale IUSD, comunque ti tolgono IUSD da Anchor. Ah no, attenzione, non è, cioè tu fornisci in collaterale gli IUSD, se non li vedi più su Anchor, non è che non ce li hai più in rendita, attenzione, questo è un, non so se lo risolveranno su Anchor, lo cambieranno, ma tu hai ancora gli IUSD, che è la versione che rende degli IUSD, quindi tu la rendita del 20% di Anchor ce l'hai, non la vedi su Anchor, ma la usi come collaterale, però non ti va a intaccare la rendita che hai su Anchor. Dunque, trimestrale di abbonamento, grande, grazie di cuore a te e a tutti coloro che si abbonano al mio canale su Twitch, con Amazon Prime a costo zero, piccola donazione per me, però va rinnovata ogni mese, io davvero vi ringrazio un sacco. Un occhio a Cell, andiamogli a dare un occhio al nostro Cell, vediamo se di nuovo vola, dunque, era qua, no, io ce l'avevo già da qualche parte, Cell BTC, eccolo qua. Allora, che cosa abbiamo qua di bello? Abbiamo una struttura di doppio triplo massimo, insomma una zona di forte offerta, qua sopra, e uno storno, un paio di storni, che però non vanno a invalidare minimamente l'essere bullish. Poi, questo è un grafico da HitBTC, quindi si salvi chi può, non utilizzate quell'exchange, mi raccomando, perché è alquanto esotico, però lo uso solo per prendere questo feed di prezzo. Io direi che è abbastanza bullish come grafico, e addirittura si presta bene a posizioni long. Andiamo a vedere sul daily, sul daily abbiamo un lower high però, quindi, e un equal low, quindi aspetterei o un higher high, eventualmente, oppure un, cioè l'andare a confermare quantomeno un range, quindi andare a muoversi così, anziché continuare con dei lower high, oppure un higher low, una cosa del genere. Una volta che si verifica questo, possiamo dire, bene, adesso stava ritracciando, il ritracciamento si è indebolito, e possiamo andare a cercare il long. sulle altcoin, molti mi avete chiesto, ma ci sta andare a cercare il long adesso, che comunque sono scese molto? Io ho sempre un approccio più difensivo, ovvero, l'aspettare più che altro, che adesso stanno stornando, sta stornando un po' tutto il mercato, e le alt contro BTC, aspettare che questo storno, dia segni di rallentamento, o di addirittura invalidazione e inversione. Nel momento in cui ciò accade, allora vado a cercare il long, e vi ho fatto alcuni esempi, però prima di allora non lo vado a forzare, perché non possiamo sapere quanto durerà questa fase di ritracciamento. Nel frattempo vedo che anche Doge si sta dando da fare, tanto per cambiare, vediamo un po', Doge abbastanza morente comunque, grafico veramente atroce. Allora, ma Piacenza che fuso orario c'è? Ma è registrata la prima parte, non è live, stanno spiegando Bitcoin praticamente. Ah, ok, ok, bene, buono sapersi. Secondo te, detenere stable su Anchor, con le due assicurazioni sul PEG e lo smart contract, può considerarsi a rischio inferiore, rispetto a detenere liquidità sulle Cefai, come Celsius e Nexo? Teoricamente è a rischio zero, cioè il rischio si sposta, sulle piattaforme di assicurazione, nel senso, se qualcuno buca, gli smart contract, delle piattaforme di assicurazione, che è il colmo dei colmi, allora c'è la possibilità di avere un danno, però altrimenti ti copre da tutti i rischi. Infatti anche su Celsius, Nexo, eccetera, c'è l'assicurazione, sia su Unslashed, che su Nexus Mutual, con, cioè fatto apposta, insomma, per coprire dagli rischi anche della Cefai. Ciao Luca, ma gli altri anni, dopo che Bitcoin ha fatto l'ultimo impulso di capitolazione, e ha lateralizzato per tre anni, anche le altcoin sono rimaste giù di valore? Non è noioso un mercato dove si fa profitto ogni quattro anni? E via, qui si vuole tutto subito, c'è questo sentimento qua. Il discorso è che, vabbè, erano anni diversi, e è vero, era noioso, c'è stata una moria che tu non puoi neanche immaginare, cioè, per l'anno 2018-2019, non se lo filava più nessuno Bitcoin, nessuno, e c'erano volumi inesistenti, non se ne parlava più, facevo i video, non se li filava nessuno, ragazzi, una moria incredibile, e infatti, molti la pensavano come te. Adesso è diverso, perché prima non c'era neanche la DeFi, adesso almeno, hai la possibilità di giochicchiare un po' con le piattaforme DeFi, ottenere una rendita, fare investimenti di altro tipo. Quindi, io credo che sia molto, molto diversa la situazione. È sbagliato, sempre prendere il passato, e riportarlo in maniera identica sul presente, e men che meno sul futuro. Ehi Luke, perché non commenti l'evento qua su Twitch? Perché secondo me sclererei un po', cioè alla fine non riuscirei a star dietro alle domande, a una cosa, all'altra, cioè potrei fare una reaction, ma non so come ne uscirebbe. Non so cosa accadrà, ma so soltanto che oggi avevo l'entry mensile sul pack, e l'ho posticipato a domani o dopo domani. Hai fatto benissimo, perché altrimenti introduci una componente di randomness che non va mai bene. L'eva 100x non ci spaventa. Esatto, l'eva 100x sia long che short, così una delle due parte e si va comunque to the moon. Scherzo, perché magari ti fa tac tac, più 2%, meno 4%, liquidato, liquidato, e poi dovunque parta. Siamo fregati. Luke ha un video, una storia su Instagram, sui vari bridge e soluzioni per spostare coin tra le varie chain, tutte le volte impazzisco. È un'idea carina, soprattutto sulle storie. Potrei... Adesso devo iniziare a pensare un po' meglio a come sfruttare le storie, perché... Non lo so, ci pensiamo, ci pensiamo. Ciao Luke, grandissimo, dove metteresti a rendita gli ETH? Hai qualche chicca DeFi con APY interessanti? Allora, questa domanda me l'avete già fatta un po' di volte e in sostanza la risposta dipende, perché c'è il metodo semplice che è l'acquisto di bet su Binance e ottenere l'Ethereum 2.0 e poi ci sono le modalità un po' più complicate, ovvero utilizzare alcune piattaforme DeFi. Io l'ultima che avevo visto che era interessante era combinare l'IDO, quindi andando a mettere in staking, però è tutto su Ethereum, quindi con costi abbastanza importanti, quindi mettere in sostanza in staking gli ETH su LIDO e ti danno gli ST e TH, con il suo APY chiaramente, e poi su Curve gli ST e TH si possono mettere all'interno del pool ST e TH e TH, che a sua volta rende, sì ho capito, a sua volta rende niente, no, rendeva qualcosa qua, tipo qualche punto percentuale, e alla fine tra una cosa e l'altra, adesso vabbè ho capito che mi devo collegare, così andiamo a vedere anche l'APY reale, forza Curve, forza, faccelo vedere questo APY, ricarichiamo anche la pagina, così vado a fare, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, no, non è lui, non è lui, non è lui, non è lui, dov'è? L'ho perso, benissimo, troppi pool, troppi pool, no, ST e TH ancora, niente, non lo vedo mai più, non lo vedo mai più, eccolo qua, ST e TH, un 4,5%, più 3 in realtà, guarda, un 4,37, un 8, più il 5% di Ethereum 2.0, però questo è tutto su Ethereum, attenzione, quindi con le gaspie elevate, basta, torno da voi, torno da voi, c'è la stablecoin EUT di Terra, sì però ha una capitalizzazione bassa, ed è pressoché inutilizzata, a me interessa che sia disponibile su più piattaforme DeFi possibile per avere un rendimento paragonabile almeno a quello di USDT, delle stablecoin sul dollaro, stanno cercando di demistificare 5 miti, Bitcoin spreche energia, facilita le attività criminali, non è scalabile, la proprietà è concentrata, può essere facilmente spezzato via, wow, wow, interessante, non vedo l'ora di guardarmelo, guarda, con calma, ciao Luca, vorrei iniziare a pensare a una copertura per la quota in dollari che ho in portafoglio attualmente messi in rendita, sul mercato tradizionale di solito mi muovo con le opzioni, sul forex, ma sulle crypto che tipo di strategie si potrebbero implementare? Guarda, purtroppo non ci sono, come ad esempio sulla finanza tradizionale, se tu acquisti un ETF americano, tu hai ad esempio la copertura sul tasso di cambio, quindi il classico ETF euro hedged, qua non c'è, non c'è nulla, nulla di nulla, o ti esponi un po' all'euro, un po' al dollaro, altrimenti, o sì, fai sempre la copertura con le opzioni sul forex, o con lo short sul forex, però vai a impegnare altro capitale, un po' una scocciatura. Ciao Luca, Binance mi ha dato 0,13 boost tramite reward center, ti è mai successo? Mi devo preoccupare? Non preoccupare? No, tienili, vai a comprati una goleador, no, non mi è mai successo, non so da dove arrivino, controlla come mai te li hanno dati. Com'è finita con Elon? E guarda, mi ha mandato un whatsapp adesso, e mi fa, sono pronto a trollare tutti, e speriamo, non lo so, guarda, non so veramente cosa aspettarmi, mannaggia lui, Elon alle 20, dunque, 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 poi, 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 sto cercando altre domandozze, mi spieghi come portare i Luna da Binance a Terra, ma li puoi prelevare direttamente dalla loro blockchain, se non erro, su Terra Station, scusate per vedere la diretta di BeWorld, qual è il link, l'ho messo su Telegram, lo trovi su Telegram, Luca, ma quindi gli altri anni? No, questo era la stessa domanda, fatti bravi, non ripetete le domande, soprattutto fa riflettere su quanto margine ci sia ancora, se era affrontato ai mercati tradizionali, è verissimo, cioè, qui tutto cresce in fretta, se si riesce veramente a trovare quelle gemme, no, quelle, a capire, no, dove investire e come, è veramente una cosa pazzesca il risultato, che si può ottenere, siamo tornati bullish con il numero di visualizzazioni in live, non ancora, non ancora, mi ricordo che nei tempi d'oro eravamo in 2000, pensate voi, però adesso siamo in 1000, quindi la cosa mi rende contento, io ce li ho sempre qua, ci sono sempre, io non li mollo mica, i mitici bull glasses, allora, non riesco a leggere niente, quindi li tolgo, abbiate pazienza, oltre ai video della DeFi, fareste un video tutorial su FTX? Guarda, l'avevo già fatto, è tempo fa, lo dovresti ancora trovare, è un po' vecchiotto, però, rifarlo, cioè, alla fine è un tutorial, è un tutorial, e bene o male, il funzionamento è sempre quello, ciao Luca, ho visto gente usare il time frame 6 ore, cambia qualcosa a livello di analisi, che senso ha? Dipende dall'operatività, alla fine io uso il time frame giornaliero, perché opero sulle candele giornaliere, non è che vado a fare dei mille milla trade durante il giorno, io di solito, ultimamente addirittura non sto aprendo posizioni, l'intraday si lo faccio, ma per giocare, cioè lo sapete anche voi, ve lo condivido giusto a scopo di didattico, e mi sto facendo un piccolo journal, giusto per capire come funzionano i miei setup, su quei time frame, ma niente di serio, assolutamente, quindi 6 ore ci sta se uno opera più sul breve, assolutamente valido, in base all'operatività che uno ha, figurati che c'è chi opera sull'orario, sui 15 minuti, 30 minuti, e ovviamente c'è più rumore, e più volatilità, c'è maggior casualità nei risultati dei trade, ecco, questa è una cosa che ho notato, vorrei farti notare una cosa, se non l'hai già notato da solo, sull'RSI c'è una trend line, che ci portiamo dietro dall'8 gennaio, è già stata toccata otto volte come resistenza, e adesso approcciamo per la nona, cosa ne pensi? Allora, RSI, vieni a me, dove sei? Qua? Dunque, vediamolo un po', dall'8 gennaio, eccolo, mamma mia, è vero, pazzesco, pazzesco questo, non lo sapevo mica, non l'avevo notato, non l'avevo notato, tra l'altro, c'è stato da qua, un po' di inversione, per il momento, perché vedete, prima c'erano low, lower low, lower low, e lower low, poi ha invertito, ha iniziato a fare degli higher low, quindi volendo, volendo, potremmo addirittura azzardare, l'ipotesi che, insomma, sta triangolando, e deve un po' vedere il da farsi, curioso, perché proprio oggi lo potrebbe rompere, dovrebbe superare i 50, per essere un po' più deciso, però vale sicuramente la pena tenerlo d'occhio, e quindi io me lo salgo, poi, Elon ha già parlato, no, parlerà a partire dalle 20, quindi noi tra poco ci salutiamo, Tesla accetterà di nuovo Bitcoin, lo dico da giorni, lo dirà oggi Elon, allora, amici miei, è il momento del sondaggiozzo, adesso vi faccio un bellissimo sondaggio, dove vi chiedo, secondo voi, dopo stasera, Elon Musk ricomincerà ad accettare Bitcoin, oppure no? oppure dirà solo cose a caso, e andrà a scillare delle shitcoin, senza ragione di esistere, aspettate, lo sto creando, giuro, allora, ci arriviamo, ci arriviamo, un po' di pazienza, mi dice, nuovo sondaggio, allora, Tesla, accetterà di nuovo Bitcoin, sì, no, Baby Doge, vai, rispondete, vediamo un po', qual è il vostro sentiment, tanto lo so cosa mi risponderete, maledetti, e l'ho messa apposta, menu a tendina sopra la chat, si risponde, e via, eccoci qua, voto anch'io, non vi dico cosa però, e dunque, poi lo facciamo vedere anche a Elon, il nostro sondaggio, così lo gasiamo, allora, allora, dopo Binance, altri exchange ottimi per noi europei? Ma guarda, rimane ottimo Binance, io lo sto continuando a usare, alla grandissima, per i passaggi Fiat Crypto, per motivi di compliance e quant'altro, io ho sempre utilizzato The Rock Trading, per rimanere in Italia con i bonifici, e poi eventualmente si fanno i passaggi Crypto Crypto su Binance, altrimenti c'è Crypto.com, che è un altro exchange ottimo, molto facile da usare, con l'app e tutto quanto, quindi quelli sono forse tra i migliori, altrimenti FTX, io ho una passione per FTX, però non è per tutti di fatto, è da pro, è molto da pro. Allora, Choluk, dopo mesi passati a divorarmi tutti i tuoi video dal futuro, finalmente riesco a seguirti in live. Grande! Ho sentito che il New Jersey, bravo, bravo, anche questo topic volevo trattare, ha ordinato a BlockFi di interrompere le sue attività. Può essere un primo tentativo di colpire le piattaforme Cefai più facilmente perseguibili, per poi passare all'attacco della DeFi, basandosi su questo precedente? Grazie per l'ottimo lavoro, e sempre to the moon. Ti dico il mio parere, allora, io ho letto la notizia, e ho letto anche la risposta che BlockFi ha dato prontissimamente a quanto accaduto. In sostanza, il procuratore generale dello stato del New Jersey, per chi non lo sapesse, ha intimato a BlockFi di smettere di offrire il suo servizio nel loro stato, nello stato del New Jersey, perché secondo loro è un'offerta di prodotti finanziari assimilabili a security. Questo è avvenuto, tra l'altro, non so se è un caso oppure no, dopo che BlockFi, scusate, ha aggiunto delle coin differenti. Non so se avete visto, hanno aggiunto uni, hanno aggiunto, non mi ricordo quali altre. Non credo che c'entri quello, sinceramente, ma magari sì, io ve la butto lì. In ogni caso, personalmente, credo che sia un'accusa infondata, e anche quelli di BlockFi lo credono, tant'è che loro stanno già rispondendo in maniera ufficiale anche alle accuse ricevute, perché si sono sempre basati su una comunicazione e trasparenza da un punto di vista proprio anche istituzionale, normativo, di compliance, cioè non sono quelli che fanno finta di niente e poi arriva la situazione, allora cercano un po' di raffazzonare. No, si sono sempre mossi nel modo giusto, hanno tenuto, hanno la sede in America, hanno tenuto tutte le licenze del caso e sicuramente adesso andranno avanti su questa direzione. Sono curioso di vedere come si risolverà la cosa, ma, attenzione anche lì, non fate l'errore di impanicarvi, perché non c'è motivo di scappare via da BlockFi, io lo uso sempre assolutamente soddisfatto e contento, insieme a tutte le altre Cefai, sapete bene che sono un abusatore di piattaforme Cefai, e non credo che, cioè sicuramente, ma sono già regolamentate a queste piattaforme, perché se si utilizza quantomeno Celsius, BlockFi, Crypto.com stessa, hanno tutte le licenze, per andare a eseguire le loro attività nei vari stati, quindi non è che sono degli enti fantasma, ce ne sono altre che sono un po' più fantasma, i luoghi offshore esotici, quelle lì magari verranno più colpite, diranno, guarda, tu non sei autorizzato a offrire il servizio nel nostro stato, ma una LEDN del caso, che ha la sede in Canada, regolamentato dal Dipartimento Finanziario Competente Americano, no, è già regolamentato, non è che di punto in bianco gli possono dire, guarda, tu sei illegale, nel caso succeda un diverbio come questo, che ripeto, l'accusatore è un procuratore alla fine, non è la SEC o simili, risponderanno e si troverà una soluzione. Vediamo come si risolve il caso, prima di fasciarci la testa. Stiamo pompando, stiamo pompando, ma no dai, siamo sempre abbastanza lì. Allora, andiamo a ingrandire, perché qua ormai basta un pump, ops, basta un pump del 5-6% che tutti infazziamo. Il mondo cripto è bello, perché quando hai un meno 5%, vedi tutti che andiamo a 100 dollari, 1000 dollari, bitcoin a zero, poi a più 5%, to the moon, 100.000 dollari entro la fine dell'anno, viva Tesla, viva Elon Musk. È bello, è bello, siamo un po' bipolari. Allora, potresti guardare il grafico di Yorn Finance, cosa ne pensi? Perché pur avendo superato in passato il prezzo di bitcoin, non se ne parla mai? Attenzione, perché l'aver superato il prezzo di bitcoin, non è una notizia da dire, wow, incredibile, la sua supply è molto ristretta, non è che valeva più di bitcoin, capitalizzava più di bitcoin. Quindi bisogna contestualizzare sempre tutto. Detto questo, Yorn Finance è un'ottima piattaforma, una coin interessante, non se ne parla, perché in realtà la price action è noiosissima, guardate che barba, che noia, questa price action è totalmente laterale, da tempo, non ha volatilità, volumi in contrazione, io preferisco usare la piattaforma, che detenere la coin. Detto proprio tra me e voi. Adesso però devo tornare su bitcoin, perché me lo voglio tenere bene bene sott'occhio. Mezz'ora, manca mezz'ora ragazzi, mi raccomando, belli carichi, mezz'ora del fuso orario di Piacenza, ovviamente. Allora, ultime domande, e poi graficozzi? E intanto è finito il sondaggio, e avete votato quasi tutti no. Vediamo, vediamo. Anch'io ho votato no, vi dico la verità. Penso che sia ancora presto per rimangiarsi la parola. È capace di dire che accetterà dogecoin, no ragazzi, giuro che se dice che accetta dogecoin, non lo so, non so cosa faccio, veramente, non lo so, non lo so, vendo tutto, me ne vado, chiudo il canale, no scherzo. Allora, allora, secondo me Musk continuerà a fare il buffone finché la gente gli darà retta. Temo anch'io, questo lo temo anch'io. No, Elon è preso male che vanno tutti nello spazio tranne lui, non ha tempo per pensare a bitcoin, esatto, pure Jeff Bezos la battuta adesso, quindi, caro Elon, qua bisogna darsi una mossa, bisogna darsi una mossa. La vera sorpresa, non sarebbe se Tesla accetterà di nuovo bitcoin, ma che bitcoin non salga o scenda per la spazzatura detta da Elon. E io non vedo l'ora, giuro, che accada così, però secondo me non ancora, siamo ancora un po' dipendenti da queste stupidaggini qua, ahimè, 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 vediamo, vediamo ultime domande, poi ci giriamo sui graficozzi, dove l'hai messo il sondaggiozzo che non lo vedo, è finito, è finito, è finito dai un'occhiata a Shapeshift Wallet, è in corso l'airdrop dei token Fox, chi ha usato il wallet o i token holder di Jitcoin uniswap su Shiswap, your nave wow wow, ci guardo, grazie grazie, poi ve lo condivido su Telegram perché starà interessando anche qualcun altro, mi sa conosci Popsicle Finance, e me ne avete parlato mille volte, ce l'ho in coda da approfondire ma non l'ho ancora fatto lo farò, lo farò Ethereum Classic andrà a morire o rimarrà parallelo a Ether ha una qualche ragione d'essere o al pari delle Shiswap, ragazzi guarda io vi dico la mia non ha ragione d'essere perché conosco la storia e tutto quindi il significato simbolico che ha, ma ha subito pure dei 51% attack, cioè è una blockchain non sicura, quindi che è suscettibile a quel rischio non ha valore, non ha valore non ci metterei nulla io su Ethereum Classic, qual è il canale Telegram? guarda se scorri sotto, qua sotto proprio sul video trovi tra le varie cose proprio Telegram, ci clicchi sopra e ti reindirizza lì tra l'altro a proposito di Telegram amici fate attenzione perché in questo periodo i fake si stanno moltiplicando ci sono un sacco di fake che mi hanno creato un canale uguale al mio dove pubblicano robe tipo mando un bitcoin e io te ne rimando due non cascateci ragazzi vi prego, vi supplico non cascateci in queste cose e ovviamente i soliti account fake che si spacciano per me vi contattano in privato e anche lì vi cercano di scammare io non vi contatterò mai in privato per primo, vi rispondo se mi scrivete chiaramente, ma non è che vi scrivo per primo e vi dito ciao, vuoi investire in questa meravigliosa coin o questo pacchetto di mining o questo scam di altro tipo mi raccomando non ci cascate io li segnalo sempre tutti su telegram ma telegram non è molto reattivo in questo quindi se trovate questi scam segnalateli anche voi per quanto possibile vi ringrazio un sacco tra l'altro vi faccio ridere uno di questi scam era scritto anche a me mi ha scritto era un mio clone mi fa ciao ti ho trovato su un gruppo di investimento in criptovalute ti interessa un prodotto di mining sembra uno di quegli scam di cloud minded non ci posso credere non lo so non so più cosa dire allora ciao puoi parlare di ellipsis grazie Pablo intanto per la donazione e parliamo di ellipsis dai direi che te lo sei meritato allora a proposito di ellipsis c'è un pool interessante allora la coin non la detengo e non ho intenzione di detenerla perché è una di quelle coin da dove siete qua è una di quelle coin da farmare e dampare secondo me poi poi aspettate pools era qua c'era questo nuovo pool usdn che è la è neutrino la coin di neutrino che è un progetto su waves è una stable coin che di per sé ha un pelo di volatilità se l'andate a vedere usdn usdn eccola vedete che oscilla un attimo intorno al dollaro il peg lo recupera è di solito è arrivato a 0,95 l'ha recuperato però è un po' volatile detto questo io non conosco bene il progetto neutrino e come funziona però me lo sono segnato di approfondirlo perché l'APY è abbastanza interessante si saturerà in fretta perché ci sono pochi volumi però è interessante gli altri APY sinceramente non li trovo no scusate questo è il volume la liquidità è 16 milioni circa però vabbè è comunque bassa se ci pensate basta che uno arrivi e metta altri 20 milioni e si dimezza l'APY quindi purtroppo è il problema delle defy delle rendite sulle defy è che sono fragili non appena arriva una balena ci si piazza dentro e l'APY si va a farvene dire detto questo per le altre per gli altri pool io non lo sto utilizzando perché preferisco delle controparti su Polygon tendenzialmente e adesso considerando il fatto che c'è lo standard sulle stablecoin c'è terra io veramente sono quasi tutto lì ormai con le stablecoin che hai il 20% di default usando solo Anchor e se ti fai un attimo di sbattimento con Mirror eccetera eccetera ottieni delle rendite che non trovi altrove quindi io al momento sono estremamente concentrato lì e poi c'è sempre il buon vecchio Solana perché Saber anche questo non ve l'ho detto ve lo volevo dire oggi ha aggiunto un pool con FTT con cui sto giochichiando un po' VFTT FTT in sostanza vabbè io ho prelevato FTT da FTX li ho swappati in parte per mettere dentro liquidità nel pool e basta e sto ottenendo l'APY che non è affatto male anche questo non durerà perché c'è un milione e mezzo di liquidità quindi credo che molto presto si abbasserà come tutti gli altri qualcuno giustamente mi ha detto eh ma tu dici gli APY però poi si abbassano e la DeFi funziona così cioè l'APY è calcolato sullo storico se poi ti arriva qualcuno e ti vomita dentro 10 milioni in un pool ciao ciao APY te lo scordi e la DeFi è così bisogna saltare dentro e fuori a seconda delle opportunità che si presentano allora 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 eccoci Bitcoin partiamo con l'analisi di Bitcoin e poi vediamo un po' anche il resto in breve allora il nostro Bitcoin ha fatto un lower low con chiusura però al momento sembra subito intenzionato a recuperare il vecchio di low ricordiamoci che il primo livello un po' significativo che stiamo cercando di recuperare proprio ora è 31.500 e qualcosa 31.500 31.600 il vecchio double bottom nonché appunto precedente low se lo recuperiamo è il primo segno di possibile propagazione di uno scenario rialzista possibile attenzione perché se poi voi guardate il quadro generale siamo sempre ben lontani io invito sempre a guardare il settimanale perché è veramente chiaro guardate il settimanale ci fa capire che cosa bisogna fare per recuperare un minimo di spinta allora molto bene che il nostro pool di domanda continua a fare il suo lavoro 30.000 i dintorni pool di domanda sul settimanale andiamo a pescare da lì e rimbalza peschiamo da lì e rimbalza peschiamo da lì e rimbalza insomma trasmette accumulazione qualcosa del genere però dobbiamo anche tenere i supporti perché se accumuliamo e poi perdiamo i supporti non è abbastanza cioè non c'è abbastanza liquidità in domanda per sovrastare l'offerta per far vedere che la domanda è vive e vegeta occorre stare qua sopra 34.000 e 5 34.600 opla qui dentro dobbiamo tornare fino ad allora purtroppo non è sufficiente come reazione ok quindi si bello sul daily vediamo che recuperiamo qualche livellino eccetera però bisogna avere in mente il quadro generale il quadro macro la settimana scorsa purtroppo è stata brutta perché se guardate è stata una settimana che ci ha fatto perdere i nostri 34.6 siamo arrivati qua sotto abbiamo chiuso qua sotto e quindi definitivamente questa zona è stata persa quindi questo è un indebolimento della domanda perché prima avevamo tutto qua sotto un pool di domanda abbiamo eroso una parte e insomma questa parte tiene botta però capite che stiamo perdendo terreno quindi per riconquistare terreno dobbiamo ritornare dietro al baluardo alle nostre mura le vecchie mura nemiche e difendere di nuovo quest'area riconquistare quest'area e poi una volta che ritorniamo qui possiamo puntare all'attacco al nostro 40.000 che è la resistenza che segue quindi questi sono gli step da tenere a mente per arrivare lì bisogna partire dal basso quindi è giusto anche guardare i time frame più brevi però bisogna pensare al far propagare il movimento fin lì quindi ripeto il reclaim di questo low è un primo segno bello anche perché abbiamo assorbito un po' l'ultima parte del dump degli ultimi giorni quindi questo è un mini bottom potenzialmente e quindi potremmo andare a puntare un attimino più in alto se ci fa da trampolino però con i limiti che abbiamo visto prima cioè dobbiamo andare a riprenderci il livello intorno ai 35.000 che è il nostro livello settimanale in questo modo avremmo il low reclaim fatto questo high ce lo riprendiamo poi avremmo il recupero sul settimanale quindi anche una bella chiusura settimanale lì sopra sarebbe auspicabile e abbiamo già un po' più di spinta a questo punto i 36.000 e giù di lì sono la zona di resistenza per sancire l'uscita da questo blocco e l'uscita da questo blocco sarebbe poi un primo trampolino per attaccare i 40.000 ed eventualmente far partire un primo storno rialzista parlo di primo storno rialzista perché vedete finora abbiamo avuto il nostro dampone la lateralità e ancora nessuna reazione di domanda questo è bitcoin quindi è presto per aprire dei long è presto per essere eccessivamente bullish anzi come giustamente diceva qualcuno prima la struttura è sempre ribassista quindi fino a prova contraria ci sta di più cercare lo short short speculativo può essere sul retest settimanale quindi su questa zona qua 34.000 35.000 proprio sotto ipotesi di tac tac bearish retest banalmente di un supporto perso classicissimo setup altrimenti per cercare il long o il reclaim di quel livello lì e allora si longa puntando ai 40.000 e anche un po' sopra oppure aspettare che la struttura si inverta un po' andando a chiudere quello che è interamente il range in quel modo si può agire con lo short di copertura quindi preventivamente aspettando poi un'altra ondata ribassista oppure se iniziamo a chiudere qua sopra si può agire diversamente partendo da qui senza considerare il dump e la sua direzionalità con un retest dei 40.000 e puntare di nuovo alla crescita quelle sono le due ipotesi che si può seguire poi venendo alle alte che oggi performano molto bene Axi ha fatto un'altra pompata ma attenzione perché questo è un top molto forte quindi vediamo adesso come va nei prossimi giorni BNB di nuovo continua il suo scenario di triangolazione che non si capisce bene come si vuol porre poi cosa abbiamo di bello abbiamo ETH che anche lui sembra aver fatto un higher low scusate quindi se così fosse sarebbe bene perché sarebbe un po' simile a BNB vediamo adesso come si comporta non c'è particolare oddio volendo si può già cercare il setup long con stop loss qua sotto però capite bene il livello di rischio in un momento di incertezza come questo e poi FTT anche lui ha avuto un andamento curioso quanto meno e adesso sta un po' lateralizzando qua era curioso era stato un dump che non mi sono riuscito a spiegare poi è stato totalmente assorbito Matic Matic ha ricominciato a svegliarsi allora i 3000 satoshi potrebbero essere un livello sul quale poi potrebbe essere interessante a sua volta andare ad aprire una posizione long anche addirittura se superiamo i 3000 e 4 pam così poi apriamo il long sui 3000 con ipotesi di prosecuzione rialzista perché qua abbiamo vedete una zona comunque di liquidità e poi run run lo dobbiamo esaminare un po' meglio come progetto ma il grafico è ancora atroce stavo guardando banalmente una panoramica proprio dei profitti dei guadagni delle coin ma direi che questo è quanto abbiamo visto un po' tutto quello che c'è da vedere adesso non ci resta che aspettare questi famigerati 20 minuti e vedere un po' che cosa ci combinerà il nostro Elon Musk amici miei io vi saluto vediamo ci aggiorniamo poi domani domattina o magari stasera su telegram vediamo un po' cosa succede e incrociamo le dita vediamo un po' che cosa ci combina non mi ha più risposto purtroppo io gli ho scritto ma non non risponde quindi probabilmente si starà preparando la sua scenetta Elon fai il bravo so che mi stai guardando quindi fai il bravo e non fare casini ci vediamo venerdì perché oggi è mercoledì ogni tanto devo guardare la data perdo la cognizione del tempo vi auguro una buona serata venerdì 18.30 ci si ritrova qua speriamo con buone notizie alla prossima amici miei di